Non c'è pace per la campagna dove allerta maltempo ormai da 48 ore. Allarme sul Vesuvio dove si segnalano i primi cedimenti dovuti agli incendi che hanno devastato il suolo. Intanto la protezione civile della campagna segnala che i rischi maggiori interessano soprattutto la costiera sorrentino-amalfitana ed alcune zone al confine tra la provincia di Napoli e quella di Salerno. Michele De Lucia, sindaco di Positano, parla di situazione drammatica. La pioggia continua a cadere senza soste tra fango e detriti. Il centro di Positano è devastato da una vera e propria slavina di materiali piombati da monte a mare. Scuole chiuse anche domani dunque in via precauzionale. I punti più critici restano tre, la spiaggia, l'area dell'isola ecologica e le frazioni di Monte Pertuso e Nocelle. I soccorsi sono dovuti arrivare via mare. Anche i sindaci di Nocella Superiore e Cava dei Tirreni sono alle prese con l'allerta. Hanno firmato ordinanze di sgombra o in via precauzionale per alcune aree del proprio territorio di competenza. Sono 13 le famiglie interessate a Cava, 25 a Nocella Superiore. Ci sono i centri di accoglienza già pronti ed aperti. Intanto l'isola di Capri continua a restare isolata tra onde alte e vento forte. Situazione critica anche a Torre del Greco e in altri paesi vesuviani. Il centro funzionale sulla base delle ultime elaborazioni meteo ha prorogato l'allerta fino a mezzogiorno di domani. In tutte le zone della Campania, eccezione fatta per Alta Irpinia, Sagno e Tanagro, dove permane la Gialla. Disagio anche per i collegamenti ferroviari sulla linea Napoli-Poggio Marino, dove per l'allagamento della stazione di Scafati le corse per lungo tempo sono state limitate alla fermata di Bosco Reale.